Pio e Amedeo. Chi sono le mogli dei due comici? Pio e Amedeo ora formano un duo comico molto amato, dal mondo dello spettacolo e della televisione. I due sono noti per le loro battute a volte ritenute, politicamente scorrette, e proprio su questo hanno basato il loro grande successo. I due si sono conosciuti fin da quando erano neonati. Sono infatti nati negli stessi giorni e nello stesso ospedale, quindi le rispettive madri hanno fatto conoscenza e amicizia, facendo crescere i loro bambini insieme. Pio, che come Amedeo ha 39 anni, da un po' di tempo è sposato con Cristina Garofalo. Quest'ultima svolge il lavoro di modella e gestisce dei social, particolarmente seguiti, con un alto numero di follower. Di origini pugliesi come Pio, Cristina si è poi trasferita per Milano a lavoro, ed in passato ha partecipato a Miss Italia. Al programma Veline, invece, è arrivata fino alla semifinale, diventando sempre più nota nel mondo dello spettacolo. Pio e Cristina si sono conosciuti quando avevano 18 anni, successivamente hanno intrecciato una relazione, ed in seguito si sono sposati. Ora convivono felicemente a Milano e nel 2016 è nata la loro prima figlia. La bambina si chiama Chiara e molte volte Pio, ne ha parlato nelle interviste con grande affetto. Amedeo Greco, invece, non vive a Milano come l'amico Pio, ma è rimasto a Foggia. Li è felicemente sposato con Maria Finizio. Quest'ultima dovrebbe avere circa 30 anni, anche se non fa sapere molto di sé, dato che si tiene lontana dal mondo dello spettacolo. Ha un profilo Instagram che ama tenere aggiornato, pubblicando scatti della sua vita di tutti i giorni, dei suoi paesaggi o delle passioni. Anche Maria è di origini pugliesi come Pio e Amedeo. Nella vita ha deciso di dedicarsi alla famiglia, ed è quindi una casalinga. Amedeo e Maria hanno due figli, Alice e Federico, rispettivamente di 4 e 7 anni. Sono felici insieme ed anche Amedeo ha parlato qualche volta, dei suoi figli e della sua famiglia, nel corso delle interviste. Per quanto riguarda la loro storia d'amore, Amedeo e Maria si sono conosciuti in giovane età, proprio come Pio e Cristina. Recentemente poi si sono sposati ed hanno avuto i loro due bambini. Entrambe le cocchie sono molto solide e sembrano essere davvero felici, e per questo condividono tanti scatti con i loro fan. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono Pio e Amedeo e conoscevate queste coppie, oppure no? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!